Un consiglio, venite a vedere queste conferenze in streaming, magari anche on demand quando vi farà più comodo, perché veramente è un'occasione straordinaria per sentire dei grandi esperti che parlano sui temi che saranno i vostri di questo secolo pieno di problemi ma anche di opportunità. Voi lo vivrete tutto questo secolo, se avete 17, 18, 20 anni, negli anni 90 avrete la mia età o poco di più e questo vuol dire che bisogna essere preparati, bisogna essere competenti per se stessi ma anche per la società. Noi abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente e voi potete esserlo. Questa è un'occasione per entrare in questo modo e parlare di problemi che sono troppo trascurati nella nostra informazione. Quindi vi aspetto.